Cosa è la vostra contribuzione nel World Food Forum? Siamo qui per raccontare le attività di DG Sant'è relativa al futuro della salute di alimentazione. Siamo facendo come in condizioni molto cambianti la situazione potrebbe evolvere nel futuro, che credo è una contribuzione significativa al tema principale del forum, che è il futuro del food.